Questa volta un bel po' di cose arretrate perché mi sono arrivate praticamente tutti insieme, le poste poi fanno le consiglie tutti insieme. Un altro volume di John Constantine Spetteri nella macchina, bellissima copertina Katsuto. Un volume di Demon Etrican, il demon della DC, con le storie di Garf Ennis, spettacolari. Due volume degli Avengers, con le copertine splendide di Alex Ross verso le stesse, le qua. Un altro volume di Drax, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia. Poi c'è un volume del crossover DC Marvel Access, dove c'è pure Loco e il Papero. E poi c'è un volumone che ho trovato a buon prezzo su ebay, sulle prime dieci storie di Hitman, pubblicate dalla Lion. Un cartonatone pazzesco, in condizioni ottime, veramente da collezione, per il capolavoro di Garf Ennis e John McRae. Veramente un ottimo recupero.